Com'è andato l'ingegnere? Sessore in persona. Com'è andato l'incontro? L'incontro andavo molto a persona. Abbiamo ricevuto delle schede tecniche, degli elaborati che ci permettono di verificare la sussistenza dell'interesse pubblico del progetto e di lavorare alla definizione di approfondimento necessario. Ovviamente i progetti non si fanno in una notte o in due giorni perché sono cose serie e quindi ci vuole tutto il tempo per valutare, vedere, approfondire, ma direi che siamo nella direzione giusta. Ma si riuscirà a stare nei tempi della conferenza di servizio attuale? Certo, dobbiamo. Ma il materiale adesso c'è tutto il necessario per scrivere la delibera, portarla in aula? Stiamo approfondendo e stiamo attendendo, abbiamo chiesto delle piccole integrazioni, però insomma si procede su binari paralleli. Quindi comunque entro il 5 aprile si arriva con una bozza di delibera? No, una bozza dovrebbe essere approvata. O una delibera, insomma. Noi stiamo predisponendo tutti gli atti necessari per andare avanti. Poi, come sapete, gli attori in gioco sono tanti e quindi ognuno dovrà prendere. Io credo che siamo nella direzione giusta, sono fiducioso. Va bene? Va bene, grazie.